Colpa mia che ho chiesto di farmi passare un po' troppo la voce prima di salire sul palco all'ottimo fonico di palco e quindi la voce non era più presente a 50 anni ho trovato dove si fa fare queste cose a 20 anni non l'avrei saputo fare allora, ne approfittiamo per ringraziare il fonico di palco e per ricordare che essendo in diretta può capitare, quindi ha fatto bene Gianluca Ferro e allora è mio grazie benissimo e quindi canta quando ti manca il fiato canta Gianluca Grignani